Un lungo corteo ha attraversato questa mattina le principali strade di Scafati a difesa dell'ospedale Mauro Scarlato. Tanti cittadini in piazza per chiedere che non venga riconvertita la struttura sanitaria. L'ospedale Scafatesi ha un bacino di utenze di oltre 200.000 persone e sono più di 50.000 l'anno gli interventi al pronto soccorso. Lasciare nella struttura semplicemente un primo pronto soccorso significa di fatto hanno ribadito stamani in corteo. Gli aderenti al comitato a difesa dell'ospedale non garantire più l'emergenza. Vogliamo naturalmente fare una proposta seria, alternativa, tecnica, studiata per valutare se dall'altra parte c'è una disponibilità. Se non c'è la disponibilità la lotta continua e il sindaco si mette sempre in testa la lotta dalla parte della sua gente. Qualcuno chiede che lei si dimetta? Quello se può servire non ho problemi a farlo. L'ho fatto già nel 1995 quando mi sono dimesso da consigliere comunale per motivi sicuramente futili rispetto a quelli di cui stiamo parlando oggi. Se può portare a un risultato si figuri se non lo faccio. Subito dopo il corteo i manifestanti in segno di protesta e per far sentire ancora di più la loro voce hanno occupato il comune di Scafati. Intanto ognuna notte il presidente della provincia di Salerno Edomondo Cirielli parla di polemiche infondate all'interno del centro-destra ed in particolare nel PDL. Messe in giro scrive ad arte da ambienti della sinistra. Sono tutte notizie prive di fondamento. Il primo cittadino di Scafati a Liberti aggiunge Cirielli al mio pieno sostegno. Sto operando con grande equilibrio e senso di responsabilità. In una situazione come quella dell'ospedale è difficile e delicata. Rispetto agli episodi di mala sanità, dice ancora Cirielli, vanno accertate senza sconti le eventuali responsabilità. Ma certamente le deficienze strutturali ed i gravi disservizi che ci sono da oltre 15 anni non si possono attribuire a chi da appena un mese e mezzo ha la gestione dell'ASL.